www.redigio.it e la storia continua La Francia è servita, il passo del moncenisio e l'ospizio A ridosso delle chiuse Da qui l'itinerario proseguiva tra boscaglie e associazioni spontanee di pioppi e ontani ai margini di un'asta fluviale ancora molto instabile fino a Ranverso-Avigliana a ridosso dell'area delle antiche fortificazioni tardo-imperiali e alto-medievali miglior note come chiuse Di queste doveva restare assai poco da un punto di vista materiale giacché erano degli apprestamenti in terra e legname che conobbero un rabito deterioramento nel loro sistema di difesa coordinate in profondità Ma tutta l'area mantenne la nozione di punto di esazione fiscale tra le Alpi e la pianura in una strettoia naturale dominata dalla mole superba dell'abbazia di San Michele Detta appunto della chiusa Proprio ad Avigliana confluivano ancora vari itinerari Verso la Val Sangone si aprivano le tortuose strade che avrebbero permesso di raggiungere il Piemonte meridionale in direzione di Pinerolo Sull'altra sponda del fiume, nei pressi dell'antica Statio della Quadragesima Galla Galliarum Ormai sommersa dai depositi fluviali e di cui si era quindi persa la nozione se non in qualche pallido riflesso toponomastico al ponte di Dora, presso l'altura del Porcairano Confluiva la via Vercellensis che senza toccare Torino, ma provenendo dal Basso Canavese e da Chivasso convogliava un significativo traffico da Vercelli e dalla Lomellina I tracciati erano grossomodo quelli romani I manufatti? Certamente no Non vi era certo più traccia dei vecchi masselli della pavimentazione stradale come hanno accertato gli scavi archeologici al Tucperosa di Rivoli dove la strada fu addirittura in parte usata come sedime di un insediamento longobardo e neppure i ponti potevano qui esibire la solida struttura dell'età imperiale, anche tarda È probabile che nell'area endoalpina questi fossero preferibilmente costruiti in legname ma è assai più probabile che strutture in duro fossero state asportate dalle piene e in seguito non più sostituite sia in considerazione della mancanza di risorse tecniche e ideative sia a causa dei bruschi spostamenti nel corso del fiume nell'area più prossima della pianura Infatti l'unico ponte romano sulla Dora Riparia, a ridosso della città di Torino alla fine del XII secolo esibiva ancora la sua struttura con monumentali piloni in opus quadratum mentre il fiume scorreva ormai a centinaia di metri di distanza Il manufatto, ridotto a come da cava all'inizio del Trecento, fu interamente smontato per riempiegare i blocchi nella costruzione del castello intramuraneo di Porta Fibellona l'attuale palazzo Madama nel cuore stesso della città Un fiume ostile D'altronde, la forte instabilità della Dora Riparia «Duria sempre turbida», annotava il cronista della Novalese alla metà dell'XI secolo rendeva il fiume più un ostacolo alla viabilità che non un alleato naturale La discontinuità della portata e il balzo ideologico delle brevi manette cateratte all'altezza dell'abitato di Alpignano ne impedivano la navigazione, nel senso della corrente se non per modesti trasporti di merci povere e la fluidazione del legname d'opera La menzione di porti che ancora oggi la toponomastica storica conserva non si riferisce infatti ad approdi per la navigazione ma a punti d'imbarco di traghetti che servivano le due sponde del fiume tra la via Vercellensis e le chiuse Oltre le chiuse, il reticolo stradale che congiungeva su Avigliana e nel cuore del socco Vallivo si semplificava in un itinerario a lunghi retti fili sulla sponda destra del fiume ma assai discosto dall'area fluviale per snodarsi a piedi del versante che lì era connotato da una superba copertura forestale che proseguiva senza soluzione in continuità fino a Susa Era la grande foresta dove fra il XII e il XIII secolo si installeranno, assai lontani dalla strada i certosini di Losa e Monte Benedetto Sull'altra sponda del fiume, invece la viabilità di origine romana fu largamente interrotta e dimenticata Benché fosse meglio esposta, soprattutto nei mesi invernali fu relegata a un uso locale per collegare i villaggi e le corti aziendali che ripraticavano una intensa viticoltura e una fiorente pastorizia Solo all'altezza di Bussoleno la strada internazionale guadagnava la sponda sinistra per raggiungere l'importante centro Seigusino Era l'ultimo tratto ancora percorribile dai carri Oltre quella tappa, i muli costituivano l'unica risorsa per il trasporto dei carichi medio-piccoli altrimenti portati a spalla dai Marraniers Ma la storia non finisce qui perché continua con la prossima puntata www.redijow.it E la storia continua